Elia Milani, Israele il primo luglio probabilmente potrebbe annettersi un pezzo della Cisgiordania palestinese, con altri protagonisti si sarebbe detto che questo è l'inizio della guerra, invece per la storia del conflitto israelo-palestinese tutto viene falsato. Che ulteriori diritti potrebbero perdere dal primo luglio i palestinesi? In realtà è difficile dire cosa cambierà dal primo luglio, perché proprio dal primo luglio in sé forse cambierà poco sul terreno, a livello pratico cosa cambierà, visto che di fatto, secondo la legge internazionale, Cisgiordania è già un territorio sotto occupazione, questo lo dice l'ONU e lo ribadisce continuamente. L'annessione significa prendere, annettere a Israele parti che i palestinesi considerano come futuro stato di Palestina, quindi di fatto, secondo tutti gli analisti internazionali, significa mettere fine a quella che è la soluzione dei due stati, cioè da una parte la Palestina e dall'altra Israele. I diritti che, come cambierà dal punto di vista dei diritti? Cosa cambierà? Si può forse immaginare guardando che è quello il progetto a cui mira questa annessione che varrà annunciata dal primo luglio in un modo che ancora non si conosce. Cioè l'annessione viene fatta perché c'è il sostegno della Casa Bianca, c'è il sostegno di Washington che ha diffuso un piano, quello che è stato definito Deal of the Century, l'accordo del secolo, che nominalmente si chiama Peace to Prosperity, dalla pace alla prosperità, che mira a creare, ovviamente ad allargare la presenza di Israele in Cisgiordania e a creare quello che tutti gli analisti internazionali hanno definito una sorta di Bantustan, ovvero Bantustan sudafricano, si potrebbe definire guardando la cartina, che è pubblica e si può scaricare online dal sito messo a disposizione della Casa Bianca, creare quello che, guardandola a me, viene da dire, da definire archipelago palestinese, perché di fatto sono delle piccole isole di territorio separato che, secondo l'amministrazione Trump, saranno collegati da gallerie o da sovrapassaggi senza contiguità territoriale in un modo che ricorda a molti analisti quello del Sudafrica. Quindi cosa vuol dire? Significa che sostanzialmente i palestinesi potranno avere i loro diritti solo all'interno di queste piccole isole, non all'esterno. Un elemento importante da sottolineare è quello che ha detto Netanyahu. Netanyahu ha detto qualche settimana fa, io quando annetteremo, ripeto non si sa ancora in che modalità, ma quando annetteremo non estenderemo la cittadinanza israeliana ai palestinesi che si trovano lì. E questo dà un po' l'idea di quello che è il progetto, nel senso, ripeto, non è un punto di vista mio, ma è un punto di vista di tutti gli analisti, non solo palestinesi, ma anche israeliani, e non necessariamente della sinistra israeliana, anche di analisti che magari sono a destra, ma criticano questa all'annessione, così come la vuole Netanyahu, perché dentro il governo israeliano ci sono diversi anni, alcuni sono più per il dialogo, non si capisce in che modo, altri invece sono più per un'annessione unilaterale, così viene definita. Quello che succederà, se il primo luglio sarà il primo step, il primo passo per la realizzazione del piano di pace, si realizzeranno appunto queste piccole enclavi, non dal primo luglio, ma nel corso del tempo, e non ci sarà l'estensione, come si chiama, la cittadinanza, verrà data la cittadinanza a quei palestinesi che si trovano lì. Quindi i palestinesi che si trovano in una zona annessa, non avranno gli stessi diritti degli stessi israeliani che si trovano in quel territorio. Di conseguenza ci saranno due persone che possono vivere nello stesso posto, ma hanno diritti diversi. E questa è una questione che preoccupa tantissimi analisti e tantissimi studiosi di diritto, ma anche tantissime persone che si vedono ad avere dei vicini di casa che hanno dei diritti diversi. Forse a causa del coronavirus, o forse perché altri conflitti medio orientali hanno ridimensionato la questione israelo-palestinese, ma sembra di capire che tutto questo sta avvenendo nel silenzio di entrambe le società, sia quella palestinese sia quella israeliana. Allora, forse silenzio non è la parola che userei io, però sicuramente non ci sono quelle manifestazioni di piazza che si potevano vedere 10, 15, 20 anni fa, quando c'erano delle dichiarazioni sicuramente meno roboanti rispetto a quella che c'è oggi. Partiamo dalla parte palestinese, che è quella direttamente coinvolta. Ci sono dei giornali israeliani e palestinesi che dicono come sia stato difficile per l'autorità nazionale palestinese raccogliere delle persone per protestare dopo gli annunci settimane fa di Netanyahu. Questo è una cosa. Poi, certo, c'è stata una manifestazione dove c'erano tantissime persone a Gerico, tante persone anche inviati delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, anche consoli che hanno partecipato, per dire no, all'annessione. Però questo fa capire che l'atteggiamento, la voglia di combattere, combattere non dal punto di vista militare, ma di opporsi all'annessione, non è il primo pensiero dei palestinesi che vivono in Cisgiordania in questo momento. Detto questo, se avverrà, l'ha detto chiaramente Mahmoud Abbas, nemmeno un millimetro di West Bank dovrà essere annesso, altrimenti c'è il rischio di manifestazioni, di proteste e altri, aggiungono anche di violenza. Da parte israeliana ovviamente c'è una preoccupazione per quanto riguarda la sicurezza, perché dicono che questa annessione rischia di destabilizzare una situazione che al momento è assolutamente tranquilla, paragonata a 5, 6, 7 anni fa. Non c'è nulla da dire. Ci sono state piccole manifestazioni a Tel Aviv di alcune persone esponenti della sinistra che hanno protestato contro l'annessione, contro il primo ministro, ma sicuramente non ci sono quelle manifestazioni oceaniche che dicono no a questa annessione. Ricordiamolo che è voluta da Netanyahu e da una piccola minoranza del suo governo e sostenuto, ricordiamo sempre, da Donald Trump e da Washington.